Per la prima volta in Italia e in particolare a Belluno, territorio delle Dolomiti, patrimonio UNESCO, dal 5 all'8 settembre andrà in scena il quinto European Veteran Rugby Festival, evento di grande rilievo per tutti gli amanti del rugby ma anche dello sport in generale. L'iniziativa, resa possibile grazie in primis all'operato dei fossili dolomitici, Sodalizio che unisce gli Old dell'Alpago, Feltre e Belluno, vedrà scendere in campo squadre provenienti da 12 nazioni differenti, oltre che formazioni di varie regioni italiane. Belluno ospita questo evento per la prima volta a livello europeo, è la quinta edizione che si è svolta in altri ambiti europei. Molto importante, portiamo 20 squadre a Belluno a giocare a rugby. Circa una sessantina i volontari coinvolti dall'evento, che si articolerà in particolare in due giornate di gioco ed altri momenti ricreativi con delle gite per gli ospiti per visitare non solo il territorio bellunese ma anche Venezia. Le persone che saranno coinvolte saranno sulle 400 persone, che verranno da varie parti d'Europa, Inghilterra, Francia, Belgio, Olanda, Ungheria e tante altre nazioni, più squadre italiane. Le competizioni si terranno dove gioca anche la società Regli Belluno, che colgo l'occasione per ringraziare per tutta la disponibilità dai campi e dall'aiuto dei volontari ed è a Villa Montanbadnas a forze. Un evento significativo per il territorio anche dal punto di vista turistico ed economico. Da questo punto di vista abbiamo coinvolto molti alberghi, per cui lavoreranno molte strutture qua in loco, abbiamo anche coinvolto delle strutture per fare da mangiare e tante altre cose.